ciao allora oggi come promesso tutorial un tutorial per realizzare un anello davvero semplice un fascione con gli swarovski non è un anello diciamo proprio inventato da me nel senso che non so se qualcun altro l'ha già realizzato di testa sua io l'ho visto ho visto una parte di questo anello quindi un mezzo fascione addosso ad una ragazza e ho soltanto continuato a realizzare i primi motivi di questo anello per tutta la circonferenza del dito quindi è uscito fuori questa sorta di fascione appunto con gli swarovski molto luminoso e molto semplice nel fare è anche abbastanza veloce quindi niente ripeto non è non so se qualcun altro a mia volta l'ha già inventato comunque sicuramente magari l'avrete già visto in giro niente io comunque ho già deciso di proporverlo e niente andiamo a realizzarlo è un anello appunto sformato da con swarovski da 4 mm io vi faccio vedere il codice utilizzerò questi che ho preso appunto da bricolarte è un colore menta AB se non ricordo male della conteria scegliete una conteria abbastanza grossa io consiglio della semplice conteria oppure delle delica o delle rocaille da 11.0 oggi io utilizzerò queste possibilmente prendete della conteria o delle rocaille che siano in contrasto con il colore degli swarovski che utilizzate poi del filo di nylon filo di nylon circa un metro io oggi utilizzerò questo quindi da 0,20 mm anche se va bene anche un filo da 0,30 mm io vabbè ho in casa solo questa questa rocchetta quindi userò questo e vorrà dire che a fine lavoro passerò bene nell'interno dell'anello per stringerlo un po' di più non lasciarlo troppo morbido mentre se utilizzerete un filo da 0,30 mm vi verrà già un po' più rigido ecco e quindi potrete passare anche lì ma diciamo che il lavoro viene già abbastanza rigido come ho detto prima quindi niente iniziamo subito quindi come vi ho detto circa un metro di filo di nylon e iniziamo così allora io poi ho già inserito nel filo cosa bisogna mettere il primo passaggio allora inserite aspettate un attimo che la luce non so come regolarla anche perché oggi poi non è bellissimo il tempo allora vediamo inserite inserite allora scusate ma sono ancora ammalata inserite allora uno svaroschi da 4 una conteria uno svaroschi da 4 una conteria uno svaroschi da 4 una conteria e uno svaroschi da 4 adesso le due estremità del filo inserite in una delle due una conteria aspettate che adesso ve la mostro e incrociate il tutto con l'altro filo quindi incrociate il lavoro ok e tirate e vi si forma questo primo cerchetto a questo punto portata il lavoro in centro del filo inserite sia nel filo di destra che nel filo di sinistra una conteria quindi una conteria nel mio filo di sinistra una conteria nel mio filo di destra ok vedete e anche qui prendete una conteria infilatela e incrociate i due fili oppla l'ho persa quindi uno due e tirate si forma così un cerchetto fatto appunto con la conteria ok così lo vedete vedete a questo punto dobbiamo riformare sempre lo stesso cerchetto che abbiamo fatto sotto con gli svaroschi ma il filo i fili dovranno uscire dalla parte diciamo sinistra quindi da questa parte quindi procediamo così nel vostro filo di destra inserite uno svaroschi ok adesso arriva una conteria uno svaroschi una conteria uno svaroschi e siamo a posto per il filo di destra a questo punto prendiamo il filo di sinistra e si inserisce uno svaroschi e poi si prende una conteria e si incrocia il filo di destra e il filo di sinistra e si tira il lavoro ok tirando come vi dicevo eccolo qua a questo punto dobbiamo ripetere il motivo perché i motivi che andranno a formare il nostro fascione sono esattamente questi posizionando il lavoro così in orizzontale si prende nel filo di destra uno svaroschi voilà aspettate che vedo un attimo la luce no ho detto così poi andiamo avanti quindi ho detto uno svaroschi una conteria uno svaroschi una conteria e uno svaroschi ok nel mio filo di sinistra si mette come prima uno svaroschi uno svaroschi e una conteria una conteria e si incrociano i due fili quindi quello di destra e quello di sinistra si tira voilà e riposizioniamo bene il lavoro per lavorare allora cosa dobbiamo fare dobbiamo fare sempre il cerchietto con le con le conteria con le rocaille allora filo di destra e filo di sinistra una conteria uno due ok si prende una conteria e si incrociano i due fili scusate ma sono veramente concia ok voilà si tira al lavoro ed ecco fatto scusate abbiamo anche fatto capottare è davvero difficile fare un tutorial con qualcosa di fronte che può essere una telecamera una videocamera un cellulare quindi torniamo a noi nel filo allora noi adesso dobbiamo riformare questo cerchietto qui quindi il filo che posizionando il lavoro così avete sulla sinistra dovete prenderlo inserire uno svaroschi da quattro ok e fate attenzione aspettate che vi rimetto a vostro posto fate attenzione dovete prendere il filo e farlo passare nella conteria del cerchietto del primo passaggio proprio il primo 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 cerchietto che abbiamo fatto adesso vi faccio vedere che è un po' più chiaro ok? avete visto? così ok? e si tira a questo punto sempre con lo stesso filo giriamo il lavoro sempre così e quindi diventa il filo di sinistra inserite sempre uno svaroschi da quattro una conteria uno svaroschi da quattro uno svaroschi da quattro e nel filo che sta alla vostra destra inserite uno svaroschi prendete una conteria e incrociate due fili e tirate e abbiamo formato un altro motivo quindi il secondo giro dei motivi ok adesso vi faccio vedere tiro un attimo i fili ok ok adesso non fate altro che andare avanti a fare sempre gli stessi motivi fino per tutta la circonferenza del dito quindi io vi ho detto che utilizzerò 57 50 no scusate 64 svaroschi quindi utilizzerò 56 svaroschi per fare tutta la la fascetta diciamo che poi arrotolerò per fare la circonferenza e quando me ne avanzano 8 sarò a questo punto che adesso vi mostro allora ecco qua questa è la fascetta fatta appunto con tutti gli svaroschi quindi ne ho utilizzati come vi ho detto poco fa 56 e me ne avanzano 8 adesso vi faccio vedere 2 3 4 5 6 7 e 8 così ci capiamo allora chiudiamo il lavoro allora dobbiamo prendere nel nostro filo che esce a destra prendiamo inseriamo uno svaroschi da 4 una conteria uno svaroschi da 4 uno svaroschi da 4 vi faccio vedere che sempre col filo dove appunto abbiamo inserito lo svaroschi e la conteria lo svaroschi lo facciamo passare nella conteria scusate un attimo che non soffiare il naso e lo facciamo passare nella conteria che sta dalla parte opposta del filo quindi sempre quella del famoso primo passaggio voilà e tiriamo a questo punto sempre per comodità io porto il lavoro così quindi abbiamo sia il filo di destra che il filo di sinistra che escono dalle due conterie cosa fare? inserire in ognuno uno svaroschi quindi me lo metto sia nel filo di sinistra che nel filo di destra voilà e prendo una conteria e tiro il lavoro cioè prima di tirare il lavoro scusate incrocio con incrocio i due fili e tiro il lavoro adesso ve la faccio vedere ok poi sia nel filo di destra che nel filo di sinistra inseriamo una conteria una conteria anche dall'altra parte perché dobbiamo fare il motivo quello dei cerchiolino con le due con le roccaile o la conteria prendiamo poi la mia conteria e incrociamo i due fili voilà ok avete visto? a questo punto prendiamo sempre il lavoro tenendolo da questa parte prendiamo il filo di destra e il filo di sinistra inseriamo come abbiamo fatto prima uno svaroschi uno svaroschi e entrambi li dobbiamo far passare nella conteria in mezzo al motivo che abbiamo accanto sia nella parte destra che nella parte sinistra è un po' difficile spiegarlo eh allora eccolo qua solo nella conteria eh ragazze voilà e adesso passo dall'altra parte mi sono messo un ago prima così vediamo se riesco magari a farvelo vedere bene vedete bisogna farlo passare oh ce la posso fare? sì qui voilà quindi abbiamo i due fili nella nelle due conterie e basta soltanto in uno solo quindi vabbè io per comodità uso il filo di sinistra solo perché c'ho l'agua eh e si inserisce uno svaroschi una conteria uno svaroschi e faccio posiziono il lavoro da questa parte e incrocio diciamo il filo nella conteria dove già esce il filo che avevo che non ho utilizzato quindi quello che avevo di destra eccolo fatto tirando il lavoro basta soltanto come vi dicevo prima per entrambi gli spessori di fili che utilizzate dobbiamo soltanto affrancare comunque il nostro lavoro facendolo passare nei motivi che abbiamo appunto creato scusate ma veramente sono messo troppo male entrambi i fili in modo che mi si formi cioè mi si come si può dire fissi il lavoro e mi si indurisca anche un po' il il lavoro quindi adesso è difficilissimo possiamo passare il lavoro con appunto come dicevo prima una telecamera in mezzo però vabbè vabbè insomma ragazze dai lo farò appena ho finito questo video quindi questo qua il mio nello fascione ripeto le misure sono aspettate le misure sono 56 o 64 svaroschi totali io per questo anello ho usato 64 perché dovevo farlo per una persona che comunque ha delle dita molto più grandi delle mie io però generalmente uso in totale 56 svaroschi quindi come vi dicevo prima consiglio di farne 56 però se la misura del dito della persona alla quale dovete farlo è un po' più grandina usatene tranquillamente 64 comunque è un anello davvero bello un anello che indossato comunque fa una una certa figura e niente ragazze spero che vi sia stato utile questo appunto tutorial adesso io passo tutti i fili e vi saluto vi mando un bacio ciao 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 ciao